Si chiama Radio Immaginaria ed è la prima web radio realizzata e condotta da adolescenti di età compresa tra gli 11 e 17 anni. Nata nel 2010 a Castelguelfo in provincia di Bologna e trasmette su una piattaforma, Speaker, un programma settimanale che da oggi conta oltre 10.000 ascoltatori e diverse redazioni sparse in tutta Italia. Un mezzo che dà a loro la possibilità di esprimersi, di essere responsabili, e di essere coloro che decidono completamente tutto quello che una radio può e deve fare. È il primo canale in Italia che dà una voce a questa generazione. Ecco, siamo alla vigilia di una quattro giorni importante a Villa Lodifè. Cosa succederà? Ci saranno degli incontri a Villa Lodifè, che è la sede del Premio Lare Alpi, quindi per noi è una sede, un territorio veramente molto interessante e anche prestigioso per testare questo primo radiocampo immaginario. E lì avremo ospiti che vengono da tutti i settori della comunicazione, del giornalismo, della musica, quindi avremo DJ, avremo speaker, avremo cronisti che verranno a microfoni aperti a portare la propria conoscenza nelle menti di questi ragazzini che hanno da 11-17 anni. Io personalmente amo molto la radio, poiché dei giovani la facciano e la facciano con la creatività e anche l'ingenuità, perché no, tipica degli adolescenti, credo che sia sicuramente una tu vincente. L'unica cosa è che quando fanno informazione devono essere attenti. L'informazione ha delle regole, purtroppo spesso non rispettate proprio dai giornalisti, ma ha delle regole ben precise nel rispetto della dignità delle persone, dei soggetti deboli e soprattutto deve avere una sensibilità. Quando si usano le parole bisogna sapere che le parole possono far male e quindi bisogna rifletterci e pesarle. Dal 28 al 31 agosto si ritroveranno tutti a Riccione presso Villa Lodi Fè con il primo radiocampo immaginario. Quattro giorni di incontri, dirette radio e musica con i giovani speaker di Radio Immaginaria. Saranno presenti tra gli altri Gerardo Bombonato, presidente dell'Ordine dei giornalisti, dell'Emilia Romagna, Federico Taddì, autore televisivo, Federica Gentile, conduttrice televisiva e voce storica dei canali Rai. E poi spazio anche alla musica con Serena Abrami che sarà in concerto il 28 agosto dalle 21, Alessandro Casillo che incontrerà i propri fan il 29 nel pomeriggio. Riccione è un laboratorio, come ho detto, non tanto e solo sul piano delle opportunità di tipo turistico, economico, commerciale, ma è appunto un laboratorio anche educativo, di formazione. Riccione comunque è nell'immaginario dei giovani un punto di riferimento del divertimento. Noi vogliamo dare anche questo segnale, insomma, che il divertimento può essere un divertimento sano. Non sapevo bene come comportarmi, non sapevo come dire le cose, poi la prima volta è stato... avevo tutti gli occhi puntati addosso. Niente, però è stato emozionante come esperienza, la ripeterai altre mille volte. Mia mamma è contentissima anche perché dice che da quando ho iniziato radio sono molto più aperta, poi miglioro sempre nel parlare perché mi impappino sempre. Anche in radio si sente ogni tanto che... Non si capisce niente. Anche mio padre è contento, poi mia mamma... Ogni tanto mio padre è un po' diffidente della radio e poi arriva dai parenti, oh sai che c'è la carlotta in tv. Per me è un'esperienza molto formativa e penso che sia anche in futuro un'opportunità di lavoro anche con altre radio, non lo so. Ho fatto solamente un'esperienza con Radio Immaginaria che sono andato in un concerto per l'Emilia e il bello di questo concerto è stato che ho fatto delle interviste alle persone nel pubblico e loro mi hanno detto che... cioè io mi ho chiesto perché siete qui e loro mi hanno risposto per contribuire per l'Emilia. Quindi non erano lì per vedere il loro cantante preferito, ma erano lì per dare un contributo all'Emilia.